Sara Toscano è certamente sulla cresta dell'onda a seguito della sua vittoria ad Amici 23. La cantante è assorbita dal suo nuovo ruolo, ed è proprio per questo che sarà impegnata in diversi eventi musicali nei prossimi giorni. A tal proposito avrebbe però maturato una scelta inaspettata che la farà soffrire davvero molto. Di che cosa si tratta? Amici. La nuova vita di Sara Toscano. Da qualche settimana a questa parte, la vita di Sara Toscano è stata radicalmente rivoluzionata, in quanto la ragazza ha vinto Amici 23. A settembre era infatti una piccola 17enne che non aveva esperienza in questo settore, e che per la prima volta si approcciava al mondo della musica. Ora è invece una giovane donna di talento con una grande carriera dinnanzi a sé. A quell'età non si può non sognare, ed è per questo che anche lei è ricca di ambizioni, ma anche di timori. Nel corso di più interviste la giovane Sara ha raccontato di essere cambiata notevolmente rispetto a settembre, in quanto si è relazionata con un mondo nuovo che non conosceva. Ha poi studiato canto e questo le ha permesso di affinare la sua tecnica e far crescere a dismisura la sua autostima. È stata poi paragonata ad Annalisa, in quanto ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo della musica e diventare una pop star di grande successo. Per fare tutto questo dovrà però fare una grande rinuncia. Sicuramente svolgere la professione di cantante non è la cosa più semplice del mondo, in quanto si viaggia davvero tanto e si hanno moltissimi impegni da dover gestire. La giovane ragazza si è quindi ritrovata catapultata in un mondo che non conosce ancora bene, ma che sicuramente le richiederà molto tempo e tantissime energie. A tal proposito Sara Toscano ha deciso che dedicherà del tempo alla frequentazione del suo liceo che, giustamente, aveva interrotto per dedicarsi ad amici. Per fortuna, quindi, la ragazza è davvero molto matura in quanto ha deciso che nonostante le grandi possibilità di carriera intende portare a termine il liceo linguistico. Non sa ancora se poi si iscriverà all'università o se deciderà di dedicarsi ad altri progetti. Sara ha poi comunicato che intende spendere i soldi vinti ad amici in corsi di potenziamento per migliorare sempre di più e potenziare in carisma e talento necessari per poter svolgere questo lavoro. Purtroppo però non è tutto oro quel che luccica, in quanto la giovane cantante ha detto che si è ritrovato a dover scegliere in merito a diverse passioni. Sara ha deciso che dovrà allontanarsi dal mondo del tennis per dedicarsi alla carriera di cantante. Per lei questo abbandono è davvero molto sentito, in quanto gioca a tennis da quando era piccola e sicuramente abbandonarlo sarà motivo di sofferenza. Siamo però certi che una volta avviata questa promettente carriera artistica potrà dedicarsi anche al suo hobby preferito durante i momenti di pausa. Che cosa pensate di questa decisione presa dalla giovane artista di viole e violini?